. . . . Sì, di Lembori e due da Vestace. Fai così una cosa, però basta un conto di luce, ciao! Prima di sei in mente, certo! Prima di sei in mente, tu hai avvicinato a te? Io certo che avvicinato! Io ti dico, guarda, a casa mia stavaglia, io non ho fatto sogno di te! Ma hai avvicinato a te? Ma pensi di te! Grazie! Grazie.